Ciao ragazzi, oggi è nuova calza, oggi è nuova calza, ma di cosa? Dei me contro te, eccolo qua, me contro te, non poteva mancare la calza di me contro te per la felicità di tutti i bambini, per la felicità di tutti i bambini e per la felicità del nostro Stefano, e quella doppia, la maxi, la calza della bevana maxi, neanche quella piccola, cioè quella piccola non ho short, quella mega, no, non la bevola, abbiamo, abbiamo quella maxi, con la doppia sorpresa, andiamo a stupire cosa Stefano tirerà fuori a tutta tua calza, vamos! Oppalale, qua c'è la calza, Stefano sta finendo di mangiare un pezzo di cioccolata preso da un'altra calza, esatto, non dei miei contro te, ma di un'altra, bene Stefano, facci vedere questa calza, vabbè, il rete è tutto giallo, tutto giallo, e poi davanti abbiamo il glitter, ah, i glitter, si, questa cosa bianca, con lui e soffi cartoon, sono cartoon della Dolphin, Dolphin, doppia sorpresa, doppia sorpresa, è la calza maxi questa, vediamo se si può già aprire, no, mi sa che bisogna rimuovere prima il patalecchino, qua il, una cosa di sicurezza, quella roba di plastica, tira forte, senza rovinarla, perché poi Stefano, no, piccolo taglio, ci siamo ragazzi, dai, eccolo qua, dopo aver provato e riprovato, ce l'abbiamo fatto, sono venuti addirittura i me contro te in persona, darci la mano ad aprirlo, quello lo mettono per non farlo aprire il negozio, esatto, vai Stefano, vai, oh, il primo, il primo, il primo, il primo, il masce mello, il masce mello, ovviamente blu come lui, giallo, il colore in mezzo, il masce mello, buonissimo, e rosa, che mastichi, che mastichi, rimangono sempre interi, bisogna fare come su Fortnite, cuocere sul fuoco, esatto, esatto, qui si usa la mente, c'è qualcosa di duro, però non questi, non quelli dolci, c'è qualcosa di duro, vediamo, il carbone dolce, il carbone dolce, il carbone, quello che per morderlo, aspetta Stef, questo è il signor S, giusto, lei, perfidia, perfidia, giustamente i due cattivi, i due cattivi, di qua, il carbone, il colore nero, dolce, ti piace il carbone? Non l'ho mai assaggiato, sai, no, è zucchero, sì, è zucchero, ma è una pietra, è troppo duro, andiamo, poi, cala, 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 si pari, e abbiamo, caramelle gommose, come abbiamo trovato anche in Onosource, nella calzetta, con succo di frutta, caramelle gommose, senza conservanti, caramelle gommose, ok, andiamo, un'altra, 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 di caramelle gommose, vediamo, dove siamo arrivati, ma secondo voi sono classiche, che dentro, dai, guardiamo, magari, sono della loro forma, cioè, magari, inizialate, dai, vediamo, ah no, sono classiche, ah, sono classiche, zuccherate, vediamo, facciamo un test, un assaggino, sì, dai, mmm, al limone, buono, 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 dunque, riassumiamo, due di queste, carbone, e marshmallow, e marshmallow, poi, stefa, cosa ci tira fuori? oh, gelatine, gelatine, ma neanche si vedono, sono impacchettate anche dentro, ah, proviamo cosa sono, ma forse sono tipo polaretti, ah, sì, sono da bere, mi sa, sono tipo polaretti? no, apri, vediamo come che roba è, stanno sono impacchettate all'interno, io ho una tabella caramella, senza gelatina, anima, vediamo che roba è, vediamo, qua, mastiche, mastiche, devono sembrare, ah, è tipo un succo, lo apri e bevi, il gusto, vediamo se sono tutta l'arancia, mi sembra di sì, questo è questo arancia, vediamo se ci scelta, vediamo se ci scelta, vabbè, in un modo direttamente, queste due all'altro, quando sono due? sì, no, questa pesca, 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 pesca e arancia, tipo il succo di frutto, trova la differenza, solo il nome del gusto bene li mettiamo dentro queste abbiamo altre squisitezze possiamo già le sorpresse ma barretta di ciocco barretta di cioccolato tipo e chi piace indecere ali dopo i cioccoli la come si chiama cioccolato soffiato abbastanza grande con le quattro bella assortita la casa della grossa per la spessa anche questo contro te quindi siamo e ci siamo marshmallow carbone due due caramelle gommose gelatine e il riso e in cioè se lingua di come fanno a stare tutti dentro una calza guardate non sta neanche l'inquadratura siamo arrivati alla sorpresa ma lei sfilate stia facendo si la sfilata è un memory 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 vai apriamo vediamo tutte le figure vai ma non c'è qualcosa altro si c'è doppia sorpresa vediamo come come il gioco del memory andiamo a spacchettare è però se rimani in camera magari i ragazzi a casa i bambini che sono curiosi come te siamo già in camera secondo voi sta sorpresa se trovano ogni calza ogni calza ha le sue sorprese no no secondo me è casuale ci sono varie sorprese allora fateci sapere cosa avete trovato voi che stefane è curioso quante carte sono ci sono forse mostrare in camera un 911 memory bell'e compatti di diciamo la cf di gira e gli ci personaggi sofi lui ma è roma nero e qui non essere a contipato di signoresse uno signoresse può essere che signore s perfidio signore s perfidio signore s perfidio con una coppia ma ci sono carte che non sono a coppia appunto se un memoria devono essere due 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 modo di giocare di 22 a no erano attaccate stefano le facevano ecco per 2 2 2 2 2 2 2 due 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 dell'astuccio bello carino sotto il retro uguale ma non vedete indietro ci sono mai contracciono le cose anche due cose o tre due vai cos'è questa cosa rotonda rotonda che dici andiamo prendere prima una cosa rotonda ma no ma è una so ma è vero guarda qua sento qualcosa qua un'altra sorpresa che cos'è no prima fai vedere questa la sorpresa l'inguardo dopo qua c'è qualcosa guarda ok di rotonda forse forse sono monete due euro due euro ma di cosa ti sei perso sono quattro sì però due di sophie complementi e nemmeno di su tre di sophie come vediamo in me contro te perché non è male questa calza guardate e poi l'altra sorpresa ragazzi poi all'interno della carta e già della casa e chiedo tutto cosa c'è l'altra sorpresa e cos'è il tag tag porta quello che va appena alla porta e tu vedi tag porta dei me contro te no è quello che appena il tipo la porti dici non entrare proprio quello prendiamo la maniglia vediamo se funziona scritto non entrate trote al lavoro siamo metto quando registriamo dal fatto per via libera quando registriamo ok e avanti e dietro quindi quando via libera e via libera sì però fallo vedere vediamo com'è vediamo com'è perché adesso è nascosta da quell'etichetta bianca mai no che non si rovina se fa paura che si rovina la carta dunque fa vedere bene ed eccolo qua va appeso non entrare trote al lavoro magari questo lo possiamo mettere quando stiamo registrando con stefa e invece quando via libera ste vai metterla sulla maniglia facciamo vedere vai vai eccoci qua bella non entrate trote al lavoro poi giriamo dai carina però molto fantasioso quando gioca non fa entrare nessuno ed eccolo qua grandissimi direi che possiamo andare ai saluti giulio che dici direi che possiamo andare ai saluti tu sei d'accordo ovvio sì dalla casa della beffana ti è piaciuta molto fateci a prendere commenti se a voi bambini è piaciuta come se lo avete trovato se lo avete fatto anche voi come se lo ricordo iscrivete al canale alla campina non lo cerco il video commentare su questo video seguirci social link iscrizione e soprattutto su tiktok ragazzi che esatto su tiktok ragazzi che siamo attivi con scennette comiche per fatti di due risultati se volete potete lavorare al canale a prezzi bassissimi bloccare tantissimi vantaggi e se volete potete acquistare su amazon il diario del collezionista il diario del fatto calcio il diario delle password e stefano ve lo mettiamo in vendita perché non lo vogliamo al primo ciao ragazzi parco un milione di euro